La solidarietà nei confronti della popolazione ucraina ancora protagonista allo stadio Friuli di Udine dopo la raccolta di beni di prima necessità nella curva nord e la presenza allo stadio dei bambini ucraini rifugiati in occasione di Udine-Esempoli. In un incontro alla Dacia Arena è stato presentato infatti il quadrangolare insieme per la solidarietà che vedrà scendere in campo sabato 7 maggio in una partita di beneficenza alle nazionali attori, prefetti e donatori di sangue oltre alla squadra degli sportivi del Friuli Venezia Giulia. I biglietti sono in vendita nelle biglietterie della Dacia Arena, rivendite Ticket One e sul sito sport.ticketone.it Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle associazioni Andos, associazione nazionale donne operate al seno oltre lo sport e Croce Rossa italiana Friuli Venezia Giulia.